Ti piacerebbe vivere in una casa indipendente, con un bel giardino, vicino a Faenza, ma lontana dal traffico e dai rumori della città? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa in vendita. Siamo in via Basiago, a pochi chilometri da Faenza, vicini alla via Emilia, ma non così vicini da avere problemi di rumore di traffico o di inquinamento. E qui si trova questa casa indipendente, su tre lati ricavati da un'ex casa colonica, con un'ampia zona giorno al piano terra, tre camere da letto, due bagni, balcone e questo splendido giardino. Al piano terra troviamo un'ampia zona giorno di oltre 30 metri tra la cucina abitabile ed il soggiorno, il disimpegno con un piccolo ripostiglio nel sottoscala ed il bagno finestrato con la vasca. Al primo piano troviamo tre camere da letto, una matrimoniale, una singola e una doppia, il balconcino e il secondo bagno finestrato con box doccia. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!